Sì, sì, sicuramente Lucarelli molto più rilassato rispetto a prima, un cattivo ritorno dalla regia, non so se è possibile correggere. Lucarelli, insomma, prima è arrivata qualche bottiglietta d'acqua, ora è zuppo. Sì, sì, vabbè, adesso abbiamo fatto tutto, dai, adesso ci dobbiamo asciugare e poi eventualmente ribagnarci ancora stasera fino a domenica prossima. Noi festeggeremo perché le vittorie si festeggiano e quindi noi onoreremo anche la vittoria e i festeggiamenti, perché è giusto così. Non vediamo l'ora di tornare a Chieti, che ci stanno aspettando i nostri tifosi, grandissimi tifosi del Chieti, e quindi non vediamo l'ora di stare insieme a loro, di goderci questo meritato salto di categoria, perché veramente è una cosa molto molto importante. Io sono contento, ve l'ho già detto, perché è stato diverso, completamente diverso, studiato, preparato in tutti i dettagli, anche nel volume della squadra, nel numero dei giocatori. Ancora qualche brivido, perché poi appena si avvicina qualcuno dietro si rischia il ghiaccio. Lucarelli, volevamo chiudere questa lunga diretta proprio con lei. Dietro alle spalle ci sono i ragazzi che hanno contribuito tutti, dal primo all'ultimo, compresi i magazzinieri, compresi i custodi dei terreni di gioco dove vi siete allenati e dove avete giocato. Avete concluso una stagione meravigliosa. Ora un occhio al futuro contro compagini che ovviamente sono molto ma molto più attrezzate. Ma questo Chiedi dove può arrivare? Ma il Chiedi può arrivare veramente in alto, nel senso è vedere le compagini del prossimo anno in D. Io reputo sempre il Chiedi la favorita, anche per storia, per blasone. Poi è chiaro che è il campo che parla, però io vedo le compagini, mi dispiace per gli altri, ma io vedo il Chiedi sempre come una squadra forte da abbattere, perché la storia dice questo. E quindi secondo me si può fare bene anche il prossimo anno. Poi è chiaro che c'è il progetto tecnico, il progetto societario, però se io vedo gli eventi che partecipano al Girone F, così dovrebbe essere, per me il Chiedi rimane favorita. Poi casomai si faranno altri ragionamenti, ma io la penso così. E questo sicuramente è un messaggio importante da parte di Lucarelli, che lancia la sfida, diciamo così. Prima di chiudere, prima di chiudere definitivamente Marco, perché credo di avere bene o male intercettato tutti, o singolarmente o di gruppo. Io ringrazio il mister tramite il nostro Galvano Coppa e la sua telecamera. Vi faccio vedere un saluto finale. Un saluto finale. Ciao papà, ti voglio bene. Ecco qui. Spadafora che ha salutato il padre. Un saluto finale per questa diretta dai ragazzi del Chiedi, che battendo il capistrello per tre reti a zero hanno ufficialmente, definitivamente conquistato la Serie D. Un ringraziamento a Mario Giacchetta, Plinio Olivotto e al nostro Galvano Coppa per averci garantito tutte le immagini. E soprattutto un ringraziamento a voi per l'opportunità che regalate a noi inviati, facendoci raccontare le emozioni dello sport più bello del mondo.